A Radio Speranza, amici e amiche, veramente buon Natale da parte di tutti noi, buon Natale quindi da Massimigliano Spiriticchio e da tutti noi appunto di Radio Speranza e oggi buon Natale lo diciamo anche insieme a Don Francesco Santuccione che è il vicario generale della nostra Cidiocesi del parroco Abate qui della parrocchia di San Cetteo a Pescara. Davvero buon Natale Don Francesco. Buon Natale approfitto a tutti quanti, gli ascoltatori di Radio Speranza so che la clientela cresce, buon segno perché una parola di speranza, di gioia, di benedizione fa bene a tutti, esplicitamente in questo Natale. Io voglio dire una piccola esperienza che abbiamo fatto ieri che abbiamo fatto un piccolo incontro con i sacerdoti qui del San Cetteo, di San Luice, l'area pastorale e ho pensato a un brano della scrittura che è molto bello, la carità di San Palli, Cristo ci spinge a farci tutto a tutti. Invece poi i miei collaboratori hanno stampato un altro brano, della seconda lettera ai Corinti, va bene, 3-5, in cui, e lo voglio fare nostra, vostra, sia benedetto Dio, Padre, nostro Signore, Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale, prosegue l'Apostolo, ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare quelli che sono in qualsiasi genere di consolazione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbonda le sofferenze di Cristo in noi, così per me si abbonda anche la nostra consolazione. Ecco, allora questo è Natale. Allora, se mi faccio avvicinare dal Signore, lo accolgo, che si fa piccolo, disarmato, bambino, non fa paura a nessuno, va bene? E allora, io lo accolgo, che Lui viene a portare pace e benedizione. E questo lo fa con ognuno di noi. Abbiamo tanto bisogno di questa consolazione, sentire che Dio è con noi, con console, perché siamo un po' ancora sballottati per la pandemia, per questi vaccini, queste cose, abbiamo paura, mascherate. E proprio in questo momento viene il Signore, e viene, beati, noi se lo accogliamo. E' Dio che ci dice, io sto con te, io ti voglio bene, io ti amo. Sono innamorato di Dio, sono il Dio con voi. E se Dio è con noi, dice San Paolo, chi ci può tambaurire? Niente, perché Dio è l'Onnipotente, ma che si fa compagno di viaggio. E questa è la prima esperienza che augura tutti gli ascoltatori. viviamo la Divina Liturgia, o della sera, o della notte, o del giorno dopo, va bene, sperimentando questa verità natale, la nascita di Dio con noi. Non è il panettone, le vacanze, le ferie, il tredicesimo, quello è il condorno, la sostanza è questa. E poi che il Signore ci dia il suo spirito di pace, di consolazione, di benedizione, per gustarlo a noi e portarlo dentro casa e fuori casa. Tutte le persone che il Signore ci fa incontrare, specialmente in questi giorni, ammalati, soli, scoraggiati, che ha perso il lavoro, e poi spaziare, che il cristiano, noi siamo cristiani cattolici, mondiali, universali, vogliamo portare questa pace a tutti, a quelle che stanno nelle zone povere, a quelle che sono emigrate, cioè senza distinzione, perché Dio, con Gesù, che si è fatto visibile, è venuto a salvare tutti gli uomini, ha annunciato a tutti gli uomini l'amore del Signore. Ecco, Natale oggi, Natale ogni giorno dell'anno. Un augurio santo, un augurio di pace, di benedizione, di consolazione, sentire che Dio cammina con noi. Ecco, Papa Francesco ci ha anche invitato a sperimentare l'umidità, no? Come fece Naaman, il re Siro, insomma. Sì, il primo ministro della Siria, che era lebroso, voleva spendere tanti soldi, però niente. Allora una serva, che è ebrea, e disse, ci sta un uomo santo di Dio in Palestina. Allora, lui si caricò di soldi, di quelli, con i servi, i regali, e gira a gira, alla fine, arrivò, perché non voleva andare. Dice, no, no. È arrivato lì, diciamo, da questo uomo di Dio, Eliseo, è forte. Eliseo gli mandò un suo aiutante, l'ha accolto, un chiedichetto grande, dice, vai a dare una parola. Non lo ricevette, ha dato una parola. Dice, vatti a lavare sette volte al fiume Giordano. E lui si mise in orgoglio. Dice, no, ne passa che sono fatti tanti chiedi uomo, tanti quelli, non mi hanno ricevuto. Ma che è? C'ho i fiumi più puliti, più grossi, più belli della mia nazione. E lì, anche lì, un altro suo collaboratore, servo soldato, che l'accompagnava, dice, ma ti avessi chiesto chissà che cosa, l'avresti fatto. Ti ha chiesto, vai a fare questo. Alla fine si convince e dice il libro sacro che dopo essere slavato per l'ubbidienza all'uomo di Dio, al Signore, tornò la carne come un giovinetto e scoprì che il Dio vero è il Dio di Israele, il Dio che salva, Dio che interviene. E si riportò un po' di terra per dire io voglio adorare il Dio che salva, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacomo. E che ci sia questo atteggiamento da parte, forse negli ultimi anni, l'uomo, Dio ha dato tante cose, di tecnica, di scienze, di cose. Io penso a un telefonino, c'ha tutto in mano il mondo, può collegare, però si è messo in orgoglio. Allora faccio io, sono Dio. E Dio ti rispetta, ci lascia fare, però ci troviamo anche qua, a terra, scoraggiati, delusi, isolati, l'uno contro l'altro, senza futuro, senza speranza, l'aria di morte che tira attorno a noi, dall'eutanasia, una cosa terribile. Rimettiamoci in umiltà, è come lo stile della Madonna. Di sono la serva del Signore, e poi è regina, è piena di benedizione. Così l'uomo di oggi ha bisogno di scoprire che creatura di Dio, amata da Dio, e senza Dio non trova felicità, non trova pace, non trova benedizione. Questo è Natale. Ecco, Dio si abbassa, si umilia, per farci, darci ogni benedizione. Lo vogliamo riscoprire e gustare, questo amore, questa tenerezza di Dio. E questa è la missione che, essendo io, che ci dà in questo tempo di pandemia. Non rimandiamo, oggi viene il Signore. Come è venuta alla stalla di Bethlehem, è diventata una reggia. Gli angeli, pastore, le rimagge, così è la nostra vita. Se noi ci diciamo, Signore, eccomi qua, ho peccato, ho sbagliato, ho fatto quello, non ci capisco niente, mi sono ribellato, ho tolto dalla... Oggi mi metto in umiltà, perché l'umiltà viene innalzata. Dio innalza gli umili, abbatte i superbi. Ma noi vogliamo essere umili, per diventare grandi. Buon Natale a tutti. E a questi auguri, Don Francesco, ci uniamo davvero pure noi, da tutti noi di Radio Speranza, che sia veramente un santo Natale, un Natale di gioia, di pace, in cui possiamo riscoprire la centralità di Gesù Cristo nella nostra vita. E a chi vuole, per la Messa, ogni chiesa dove c'è il sacerdote, si fa presente Natale, nella Divina Liturgia, che ci porta pace e bene, e gioia a tutti. Di nuovo, Buon Natale!